Come va l'assaggio? Bene, molto bene. Si distinguono bene i sapori, la distinzione tra i due tipi di oli. In particolare che cosa si sente di diverso? Anche il cibo è saltato in modo diverso. Ma è vero che si sentono questi sapori piccanti? Soprattutto dell'olio A, tantissimo. Si sente anche in gola. Ma è una cosa che dà fastidio e piace? A me piace perché comunque sono questi sapori forti e mi piacciono. Forse qualcuno potrebbe dare fastidio perché sente il prurito in gola. Sta dando il voto lei agli oli? Sì, ancora però non riesco a dare un giudizio. Ma che cosa ha sentito una differenza tra il primo e il secondo olio? Sostanziale questo, il B è piccante, sento che sia piccante. Invece l'A sento un amaro. Ecco, queste sono le sensazioni che ho avuto, le più evidenti. Ma sono sensazioni che danno fastidio oppure possono piacere? Pacevoli, piacevoli. Come? Sì, sì, senz'altro. Sono sensazioni piacevoli. È la prima volta che lei fa una degustazione di questo tipo? Sì. Che cosa l'ha convinta a venire a farla? Curiosità. Perché sono molto interessata all'olio e quindi mi piace scoprire cosa davvero rappresenta l'olio nella nostra alimentazione. Oggi è davvero interessante. Ho soprattutto scoperto che i due pregi fondamentali dell'olio sono l'amaro e il piccante. Grazie. Grazie. Grazie.